Dalla posizione di Bhujangasana facciamo un salto indietro ed andiamo in Dandasana, poi scendiamo col bacino, inspirando, in Kokilasana. Manteniamo qualche respiro profondo Kokilasana, poi esaliamo e saliamo in Meruasana. Manteniamo per qualche respiro profondo Meruasana, poi pieghiamo le gambe, scendiamo in Namaasana e distendiamo la colonna vertebrale. Rimaniamo anche in questa posizione per qualche respiro, dopodiché ci sdraiamo in Makarasana.